del cambio palco abbiamo costruito una carriera sui cambi palco per fortuna che ci sono i cambi palco perché in quell'interstizio noi creavamo ricordiamolo anche perché è bello farlo abbiamo avuto modo di fare molte di questo genere di cose per esempio Duel tu eri diventato il co-conduttore di questa sfida di sonorizzazione quando vado a chiedere un lavoro nuovo io ho co-condotto il Duel questo mi apre delle porte verso la dirigenza mi fa molto piacere che apra soltanto a te uno dei due doveva vincere però siamo qui per presentare questo tuo nuovo romanzo che tu hai già un po' come dire è un romanzo però in realtà sono tanti racconti sì è fondamentalmente un romanzo che insomma spero credo che mi permetta di raccontare un amore comunque per la letteratura quindi in realtà ci sono anche degli esperimenti ci sono delle citazioni è un romanzo estremamente citazionista è un romanzo dove nelle pieghe ci sono sempre dei riferimenti che sono quelli dei miei maestri di scrittura a cui mi sono ispirato che ho letto che ho amato quindi c'è il pavese sotterraneo ci sono tanti scrittori c'è il simbolismo francese della fine dell'ottocento c'è Paul Elard che quindi diventa come dire una guida c'è poi tutto un canovaccio della musica torinese che è rappresentata anche le tue esperienze ci sono delle mie esperienze autobiografiche c'è la fiction c'è il romanzo storico propriamente detto molto preciso rispetto ai riferimenti tautologici e di date che le citazioni che si fanno c'è questa colonna sonora mutante che è rappresentata da un fil rouge che connette tra di loro i testi per esempio di un gruppo underground torinese come il Nero Orgasmo che secondo me a un certo punto nella storia della musica non soltanto torinese ma mondiale ha rappresentato qualcosa di fondamentale seminale io sto costruendo ho costruito un altro romanzo dove il Luca Abort è l'alter ego italiano di Carcobain dove io dico anche provocatoriamente hai voglia ad avercene non nel senso che il vero nichilista era Luca Abort non è stato Carcobain per certi aspetti insomma quindi voglio dire c'è tanta carne al fuoco talvolta anche fin troppa è un libro che è simbolista fin dal suo involucro questa doppia mole in negativo una diretta verso l'eterio il cielo sublime e l'altro invece verso i bassi fondi quindi c'è questa combustione fra il sacro e il profano è un romanzo noir dove c'è un assassino seriale che praticamente miete vittime da tempo immemorabile fra i figli di Torino insomma ci sono un po' di racconti che cercano di raccontare anche delle esperienze appunto di questa città che è una città globale è una città che è il contrasto di tutto delle esasperazioni delle contraddizioni è la città industriale per eccellenza avanguardia del capitalismo ma è stata la città del biegno rosso delle avanguardie operaie che hanno per la prima volta sovietizzato la fabbrica in Italia è una città che è cambiata anche molto è una città che si è trasformata e qui viene raccontata anche l'epica dell'Olimpiadi Invernale con i suoi martiri con la storia per esempio di sole e baleno insomma con tante tante vicende che si intrecciano tra di loro parte dal 1922 della strage di Portasusa del 18 dicembre quando Mussolini invia le sue squadracce fasciste appena insediato alla guida del governo da Vittorio Emanuele Mussolini manda nella porca Torino gli squadristi a dare una lezione agli operai ai ferroviari torinesi infatti vengono uccisi in una settimana di mattanze dove le guardie regge erano ferme e gli squadristi di Brandi Marti avevano campo libero 22 ferroviari operai e sindacalisti che sono citati nella stele che noi troviamo a Portasusa di fronte alla stazione e da lì parte questo racconto che poi si disperde nei rivoli di uno dei più grandi ed efferati omicidi seriali o meglio strage che è stata perpetrata in Italia nell'epoca moderna si tratta della strage di Villarbas dove 10 contadini coloni furono massacrati da una bandaccia di siciliani borsaneristi che furono anche gli ultimi condannati a morte prima che la Costituzione abolisse la pena di morte che quindi De Nicola rifiutò di firmare l'amnistia si commistiona con i flussi migratori contemporanei con la storia dei meridionali che vennero a Torino negli anni 60 e 70 a come dire ingravidare il ventre della fabbrica c'è la storia della Stella Rossa la fabbrica diciamo così Lager dove venivano in corso Umbria come dire ghettizzati gli operai di Mirafiori che rompevano i coglioni insomma ci sono tante storie c'è il cinema statuto come simulacro e storia di un eccidio contemporaneo che noi abbiamo vissuto che ha segnato la storia di questo paese simbolicamente la strage più grande in un cinema italiano nella capitale del cinema che è Torino insomma ci sono tutti questi rimandi abbastanza esoterici talvolta perché Torino si può raccontare secondo me in migliaia di modi e questa è una delle trame che io ho trovato per raccontarla ecco e tra l'altro tra gli titoli che ho visto c'è uno che mi torna un po' familiare perché credo che di averlo sentito o forse non è lo stesso racconto che è uno me ne vado da Torino dove è? quello magari lo volevo destinare per la chiusura nel senso che quello lì in realtà è un racconto che lei ben sa che è andato anche in onda anni fa in un'altra edizione del Salotto di Mau che si teneva in un locale in fronte in riva ai Murazzi e lì naturalmente come dire parafrasando il buon Remo Remotti io ho riscritto a uso e consumo Sabaudo quella invettiva che in realtà era una lettera d'amore di Remo Remotti nei confronti della Roma matrigna della mamma Roma Pasolignano tenerla sempre in tasca esattamente invece io questo me ne vado da Torino è lo stesso atto d'amore e odio nei confronti di una città che ti accoglie ti mastica ti sputa fuori e poi talvolta ti riaccoglie allora dottor Mugo quindi diciamo tutto questo quello che ci ha accennato è presente qui in questo libro appunto che è fresco di stampa freschissimo di stampa lo potrei trovare in tutte le librerie del regno tra l'altro è un periodo felice per lei perché è entrato anche in classifica con un album non mi prendo meriti altrui è bello sapere che sei nei 51 primi album rock italiani di tutti i tempi è una bella soddisfazione è una bella soddisfazione quindi lo facciamo allora se lei a questo punto è d'accordo dottor Mugo noi siccome avremo un altro momento con lei cercheremo magari anche di leggere io cercherò magari anche di farle eventualmente un appoggio diciamo musicale come ai vecchi tempi perché vedo che sono già pronti sono quasi diciamo pronti siete pronti sul palco quasi 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 devono mettere ancora a posto due o tre cose ma si sa che quando poi c'è una cantante è tutta un'altra cosa bisogna prendere altri ritmi però direi che ci sono perché vedo già come dire i maschietti della band diciamo tutti quanti in fila quindi di